In questo Santo Rosario vogliamo pregare insieme con Maria perché possiamo ottenere dal Signore la grazia della liberazione da questa pandemia. Nella nostra preghiera vogliamo ricordare tutti coloro che operano nell'ambito sanitario ed amministrativo, i malati e i nostri cari defunti, specialmente quelli da coronavirus. Oggi, martedì, meditiamo i misteri dolorosi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo i nostri peccati. Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Consolatore. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nel Gezzemani. Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Padre, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dell'Elemosina, prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dell'Elemosina, prega per noi. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo la fine di Gesù. Maltrattato, si lasciò umiliare, e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il Padre, il Signore è sempre, nei secoli e secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Santissima dell'Elemosina, prega per noi. Nel quarto mistero doloroso, contempliamo Gesù sale a Calvario, carico della croce. Chi vuole essere mio addiscepolo, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. 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 Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con me come era il Reggio, il Signore è con te, il Signore è con te, il Signore è con te. Speranza nostra salta. A te ricorriamo, Esu, dei figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di Lardia. O sulunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clementi, o Pia, o Dolce Vergine, Maria. Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo o pietà, Cristo o pietà, Signore e pietà, Signore e pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Dio Padre misericordioso, abbi e pietà di noi. Dio Figlio mite ed umile di cuore, abbi e pietà di noi. Dio Spirito di amore, abbi e pietà di noi. Santa Trinità, sorgente di misericordia, abbi e pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre piena di tenerezza, prega per noi. Madre della Provvidenza, prega per noi. Madre ingline al perdono, prega per noi. Madre del Dio fedele, prega per noi. Madre dell'Agnello immolato, prega per noi. Madre dei Redenti in Cristo, prega per noi. Icona della Divina Misericordia, prega per noi. Modello di carità, prega per noi. Capolavoro di pietà, prega per noi. Mediatrice di grazia, prega per noi. Ministra della Pietà Divina, prega per noi. Dispensatrice di sante delizie, prega per noi. Splendore di umane virtù, prega per noi. Arca indurata dallo Spirito, prega per noi. Vergine tutta santa, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine temibile ai demoni, prega per noi. Vergine desiderabile agli angeli, prega per noi. Prodigio dell'amore del Padre, prega per noi. Trono del Pargolo Creatore, prega per noi. Sposa inviolata dallo Spirito, prega per noi. Discepola perfetta di Cristo, prega per noi. Rovetto inestinguibile di amore, prega per noi. Giardino di ogni bellezza, prega per noi. Sorgente di dolcezza, prega per noi. Coppa ricolma di clemenza, prega per noi. L'avacro di giustizia, prega per noi. Decoro del popolo dal bavilla, prega per noi. Frutto dell'albero fiorito, prega per noi. Dimora fortificata, prega per noi. Terra di salvezza promessa, prega per noi. Aurora della città nuova, prega per noi. Rifugio degli esuli, prega per noi. Sentiero degli eranti, prega per noi. Porto sicuro dei profughi, prega per noi. Pellegrina di speranza, prega per noi. Custode dell'unica fede, prega per noi. Madre dei poveri, prega per noi. Sostegno dei deboli, prega per noi. Conforto degli afflitti, prega per noi. Sollievo degli oppressi, prega per noi. Bassamo di chi soffre, prega per noi. Ancora dei disfiduciati, prega per noi. Difesa degli innocenti, prega per noi. Riscatto dei condannati, prega per noi. Verità degli indotti, prega per noi. Monito ai penitenti, prega per noi. Lode dei giusti, prega per noi. Viatico dei moribbonti, prega per noi. Diadema dei sacerdoti, prega per noi. Pegno di incolumità, prega per noi. Vingolo di pace, prega per noi. Donna amabile, prega per noi. Signora di bontà immensa, prega per noi. Regina del perdono, prega per noi. Sovrana degli eserciti celesti, prega per noi. Fiore dei patriarchi, prega per noi. Sapienza dei profeti, prega per noi. Tesoro degli apostoli, prega per noi. Corona dei martiri, prega per noi. Salute dei mortali, prega per noi. Gloria di tutti i santi, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Per le intenzioni del Santo Padre Francesco, Padre nostro che se ne c'è inizia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo do la loro Signore, stendi ad essi la luce perpetua, così in pace. O Dio, Padre d'eterna misericordia, che nella Biata Vergine Maria, Madre dell'Elemosina, ci hai dato un segno infallibile del tuo amore, suscita in noi un animo generoso e attendo ai bisogni dei fratelli, affinché ci rendiamo degni della tua pietà e del tuo amore. Per Cristo nostro Signore, amene. Adesso, come ogni sera, facciamo la preghiera di supplica, affinché la Madonna ci possa liberare dalla pandemia. Santissima Madre dell'Elemosina, che sin dall'eternità fosti predestinata ad essere la Madre del Verbo, con quella pienezza di grazia, che ti comunicò il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per farne partecipi tutti gli uomini, che ai piedi della croce si è stata dichiarata Madre dell'umanità, e che per una ragione singolare, predilezione, arricchisti questo suolo col prezioso dono della tua prodigiosa immagine. Degnati, ti preghiamo, di effondere su di noi la tua materna benevolenza, di esaudire le nostre suppliche e di accettare i nostri omaggi. Potentissima ed amorosissima Madre, assistici in tutti i pericoli, soccorici in tutte le necessità, specialmente nella presente pandemia, e difendici dagli assalti del comune nemico. E finalmente, in quell'ora estrema, da cui dipende un'eterna vita, o un'eterna morte, ottienici da Dio quegli aiuti efficaci, che sono necessari per finire santamente i nostri giorni, per poi goderti, benedirti e glorificarti, in cielo per tutta l'eternità. Amen. Adesso riceviamo la benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.